Prende il via il progetto sperimentale dell'Università d'Annunzio denominato Plamar 3 per la raccolta, la ricerca e il riciclo della plastica in mare. Dopo la firma del protocollo d'intesa avvenuta nei giorni scorsi, ora il progetto potrà dirsi finalmente operativo con il coinvolgimento diretto dell'Associazione Armatori di Pescara a cui è stato consegnato il materiale che consentirà di dare il via alla prima fase, quella della raccolta delle plastiche in mare. Al nostro microfono il Capitano Di Vascello, comandante della Direzione Marittima di Pescara Donato De Carolis, il rettore dell'Università d'Annunzio Sergio Caputi e Francesco Scordella dell'Associazione Armatori di Pescara. Questo è un progetto concreto che vede la collaborazione molto stretta con il mondo universitario, il mondo scientifico ma anche altri soggetti istituzionali, anche la regione, i comuni ma soprattutto vede in prima fila i nostri pescatori che sono coloro che hanno da tempo lanciato un grido d'allarme. I pescatori durante le loro duturne attività di pesca recuperano materiale plastico, questo materiale plastico verrà conferito in appositi spazi che abbiamo individuato all'interno del porto e queste plastiche a loro volta saranno oggetto di studio da parte dell'università. Al termine di questo ciclo la plastica giusto per anche sviluppare il concetto del riuso delle plastiche, questa plastica verrà a cura della ditta della FATER, verrà riutilizzata, il nostro obiettivo è quello di creare un manufatto, una barca a vela in plastica per far capire che la plastica non deve essere rigettata in mare in maniera indiscriminata ma può essere oggetto di riuso. E' una cosa che abbiamo sentito di voler fare e diciamo che la ricaduta sarà quella che andrà a finire tra virgolette sulla sostenibilità quindi sulla salute del cittadino e sull'alimentazione perché non dimentichiamo che le plastiche nel male liberano microparticelle, noi studieremo tutte le modalità quindi ci sarà un riflesso sulla salute e sul futuro dell'alimentazione. Francesco Scordella degli armatori di Pescara come sarete coinvolti in questo progetto? Praticamente parte questo progetto da un bar, una chiacchierata col rettore e ha raccolto quello che io avevo detto quindi che abbiamo, se ne parla tanto di queste plastiche ma non si fa niente in realtà quindi abbiamo messo in piedi questo progetto per la raccolta e la ricerca di queste plastiche per capire un attimino cosa influisce sul mare e l'impatto per il nostro lavoro e per sensibilizzare un pochino tutta l'opinione pubblica.